su instagram ci stiamo prendendo la mano e qua siamo su facebook e youtube ciao a tutti cinofilovers bentornati allora sono stati giorni un po concitati ne sono successe di cotte di crude soprattutto di cotte e anche di crude e non è stata una settimana molto bella non è stata una settimana molto bella per me personalmente non è stata una settimana molto bella per la cinofilia in generale non è stata una settimana molto bella per voi che avete dovuto assistere a delle diatribe un po così vabbè allora oggi torniamo a fare il nostro torniamo a parlare di cani scusate se mi vedete che sembra un deficiente ma ho tre punti d'appoggio diversi perché qui parlo su instagram qui parlo su facebook e youtube e qui parlo su tiktok che non avevo mai fatto le dirette su tiktok quindi oggi torniamo a fare il nostro a a parlare di cani in maniera semplice in maniera spensierata in maniera felice in maniera che tutti possano capire quelli che vogliono capire chi non vuole capire pazienza il mondo è grande e cose da sentire ce ne sono tante allora vi anticipo che sicuramente riceveremo un po di fastidi in questa diretta adesso che siamo nel fuoco nel vivo di queste diatribe cinofile in cui vengo coinvolto e in cui non sempre io riesco a fare ad essere più furbo e non cogliere le provocazioni però quello che dovevo dire l'ho detto direi che il mio video denuncia lo avete visto ed è stato colto che non l'avete che non l'avesse visto lo può trovare sui miei social perché io reputo che sia giusto informare chi non ha voglia di brutte esperienze detto questo aspettiamoci un po di fastidi ma noi ormai appunto quello che dovevamo dire l'abbiamo detto non rispondiamo a queste persone specialmente ai maleducati chi invece volesse esternare il proprio pensiero in maniera come dire educata rispettosa anche se in disaccordo va benissimo partiamo non sarà una diretta lunga come faccio di solito cerchiamo di arrivare in sintesi ma spesso mi sento fare la solita domanda e sento anche dire le solite cose un po strane che dici mamma questo sta parlando di cani o vabbè allora cani e libertà partiamo da un presupposto fondamentale necessario per chiunque avesse un cane un cane senza libertà non può condurre una vita serena sicuramente è un cane che avrà dei problemi piccoli o grandi che siano ma un cane senza libertà non può essere psicofisicamente in equilibrio ok spero che questo sia chiaro ma questo perché io sento di teorie poi soprattutto questi giorni di cani che non devono mai stare liberi mai cioè proprietari e anche chi lavora con i cani che dice che il cane non può stare libero mai ma bisogna chiedersi ma avete mai visto un cane ma qualcuno ha sta gente che dice queste cose gliel'ha mai spiegato cos'è un cane allora il cane questo è importante capirlo facciamo un po anche di di storia cinofila il cane è stato selezionato dall'essere umano come tutti sappiamo spero di dire delle ovvietà ma magari qualcuno si accende qualche lampadina il cane è stato selezionato dall'essere umano per essere di aiuto all'essere umano nelle varie mansioni che fosse la caccia che fosse la guardia che fosse la pastorizia eccetera 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 ora ditemi voi come fa un cane al guinzaglio a fare quello che deve fare tu pensa il cacciatore no in tante di quelle fa tipologie di caccia diverse tra loro il cacciatore si affida proprio al cane da cane è lui che lo guida è lui che trova la la preda in certe tipologie di caccia che dice al cacciatore siamo qui ecco perché alcuni cani da caccia sono più portati ad abbaiare geneticamente era previsto che facessero questo ditemi voi come si fa a dire al cane di trovare la preda oppure a dire a fuffi no no fuffi un cane da pastore no bit bit era un cane da pastore il mio cane a dirgli riporta la pecora nel greggio al guinzaglio a voglia di correre bisogna essere atleti quindi capite bene che il cane essendosi è voluto con l'uomo in secoli e secoli e secoli di selezione umana e l'uomo è l'animale più antico che si è che è rimasto a fianco dell'uomo per così tanto tempo è proprio prevista la libertà cioè lui geneticamente il cane è portato alla libertà senza questa roba qui il cane sta male psicologicamente è una tortura ma poi anche fisicamente perché chiaramente la struttura fisica del cane aerodinamica certo se non avete un bulldog inglese ma in linea di massima la maggior parte dei cani hanno una struttura ha una struttura fatta proprio per essere leggiadro è un'onda che vola nell'aria e quindi bisogna farli correre sti cani come quelli che si prendono i levrieri e li tengono al guinzaglio ma come lo tiene il guinzaglio e se lo libero corre grazie al cazzo quello deve fare il cane se lo libero corre ma come facevano i beduini del deserto che usavano i levrieri per la caccia tutte le volte dovevano prendere un levriero nuovo nel deserto pieno di allevamenti di levrieri questi qua vanno un business della madonna questi beduini ogni volta che lasciano un levriero lo perdono non è così è chiaro che a seconda della razza a seconda della tipologia di cane che abbiamo cane da caccia cane nordico cane primitivo cane da pastore eccetera eccetera c'è un modo diverso di abituarlo alla libertà e mo ci arriviamo ma soprattutto è giusto o non è giusto lasciare libero il cane voi sapete ma io potevo anche accendere qua è caduta la linea aspetta dovevo accendere la lucetta voi sapete adesso arrivo anche da voi va come si vede ma è tutta un'altra storia adesso allora è giusto o non è giusto lasciare il cane libero niente qua il telefono non vuole più stare bello la tecnologia ecco ma non tocchiamo niente che qua casca tutto la legge dice che il cane in ambiente urbano anzi in ambiente pubblico non può stare libero il che significa che non potrebbe stare libero mai nei parchi nelle spiagge nei boschi tanto meno in città ovviamente ok però è anche vero che abbiamo visto nel corso degli anni della storia che spesso e volentieri alcune leggi sono state fatte da chi non conosce l'oggetto l'oggetto a cui è rivolta la legge e alcune leggi si sono rivelate anche sbagliate quindi a buon senso uno capisce cosa deve fare ora ammesso in un concesso che si stia parlando di cani scusate ma faccio gente che mi chiede di fare diretta insieme un momento perché devo gestire tre robe diverse a me se non concesso che si stia parlando di cani gestibili di cani che si possano lasciare liberi adesso capiamo che cosa vuol dire ovviamente è una cosa che va a vostra discrezione io personalmente proprio perché penso al benessere del mio cane faccio una scelta dico con il rischio di prendermi una multa nel rispetto degli altri quindi avere un cane che comunque da libero non va a rompere le scatole la signora non fa cadere le persone non vada abbaiare agli altri cani eccetera eccetera quindi parlando semplicemente di libertà io da proprietario dico io prendo la multa ma il mio cane non può non stare libero mai poi in quanti anni sono che ho cani in 19 anni di cani da quando ero ragazzino ad oggi io li ho sempre lasciati liberi ho beccato un sacco di poliziotti carabinieri anche oggi ho pubblicato un video su facebook dove c'è la polizia che passa io il cane libero e manco mi hanno detto eh guardi che però non si potrebbe niente niente che significa che la legge c'è questo al buon senso della persona applicarla o non applicarla e se non non l'applichiamo cerchiamo di stare attenti però è di essere comunque sempre rispettosi quindi quali sono le caratteristiche che deve avere un cane per poter stare libero chiaramente deve essere un cane che torna al richiamo chiaramente deve essere un cane che non va a molestare gli altri quindi se io ho un cane libero che però si ha detto mirko che deve stare libero ma perché perché mi chiedete di fare le live insieme ragazzi non capisco questa cosa quindi mirko ha detto che il cane deve stare libero lo libero poi vabbè va a rompere i coglioni agli altri cani ma deve stare libero no chiaramente no ok c'è chi dice che lasciare liberi i cani voglia dire mettere in pericolo di vita tutti quanti proprietario il cane stesso gli altri cani le persone potrebbe a seconda di quello che fa capite bene che se il mio cane taglia la strada a un ciclista è quello è metterlo in pericolo se il mio cane va ad attaccare briga con altri cani quello è metterlo in pericolo quindi ci vuole un cane che sappia tornare al richiamo un cane che non va a molestare gli altri una zona una location in cui non siamo tutti ammassati uno sopra l'altro se vedo arrivare il ciclista se vedo arrivare il problema riusciamo ad organizzarci per tempo se un cane che è bravino a stare libero ma in alcuni frangenti si fa prendere dall'emozione o dalla distrazione interessante e va bene vorrà dire che mi organizzo in modo tale da andare in posti dove vedo sempre abbastanza distanza a meno che non abitiate liguria perché io ho vissuto liguria lì gli spazi per vedere la distanza non ci sono sono tutte curve monti spuglie quindi ti ritrovi da una curva all'altra sempre la sorpresa e però in linea di massima mi organizzo per far sì che se vedo il problema leggo il cane se ho un cane che da libero mi sta bravo ma va a salutare anche in amicizia tutti gli altri cani quando vedo un cane sarebbe buon senso legarlo ok perché io che lascio libero il cane non permetto a baku di andare dagli altri poi qualcuno si indigna perché in un qualche video passato della rubrica spasso con baku si è visto baku scacciare un cane che ci si è avvicinato ma scacciare come non aggredendolo mi ha fatto come fa lei ormai ok cioè lei aggrediva i cani abbiamo trovato un compromesso questo per me vivere con il cane io ti insegno a non essere più aggressiva tu però è tutto il diritto di dirmi che non hai voglia di fare certe robe che ti stanno sulle balle certe situazioni ed è giusto che tu lo dica no quindi io non permetto al mio cane di andare da altri cani così che poi possano visticiare litigare eccetera eccetera chiaro è che se arriva il cane libero la mia tutto il diritto di mandarlo a cagare ma mi sembra di umana concezione anche noi se non abbiamo voglia di far qualcosa lo diciamo perché bisogna aspettarsi che il cane debba subire e sopportare tutto sempre e comunque che non debba dire niente un abbaglietto ci sta se non vi piace farete in modo che non lo faccia più povero vostro cane cosa vi devo dire però è chiaro che non devo avere un cane che va a molestare gli altri a me quando arrivano i cani i proprietari che non dicono niente al loro cane il loro cane arriva mi scusi lo può chiamare no ma vuole solo giocare signora il suo vuole solo giocare il mio no quindi cos'è devo essere preso in ostaggio perché il suo vuole giocare ma che discorso è non funziona così poi quando vuole giocare perché sappiamo abbiamo forse capito che di comunicazione canina c'è ancora un gran bisogno di studio e capita tantissimo qua nel parco dove vado al monte stella tutti i giorni c'è una fantastica signora con un pastore tedesco che quando vede un cane arrivare sul suo tragitto parte fissa sguardo dritto cammina con l'aguato va tutta lenta lenta punta e all'ultimo si fionda sul cane poi non morde però sta roba brutta no e dico io l'ho già detto un sacco di volte sta signora infatti adesso lei quando mi vede lega il cane quando vede me quando vede gli altri no però signora ma lo tenga questo cane ma no vuole solo giocare ma voglielo spiegare che tu sei un educatore cinofilo che studiato la comunicazione non si può fare risulti antipatico presuntuoso signora no guardi anche se vuole giocare non è un bel gesto quello che fa gli altri cani mette in difficoltà allora ragazzi se il vostro cane ha comportamenti proiettati verso l'esterno che siano cani persone sti cani vanno tenuti non è che il cane si debba privare della libertà ti libero ma quando vedo l'oggetto del problema ti leggo non succede niente non mi viene l'ernia al pollice a furia di metti togli metti togli il guinzaglio e fate un favore alla civiltà no perché poi chiaramente c'è gente che dice a il cane la gente con i cani sono tutti maducati non raccolgono le carche i cani ti importunano e non deve essere questo non dobbiamo fare tutti le le spese di chi è in rispettoso poi ci sono altre teorie quelli che dicono e questa roba qua a me proprio fa mi fa mi fa sudare sudare freddo quelli che dicono eh no il cane non va liberato perché non sai mai cosa potrebbe succedere potrebbe mordere da un momento all'altro potrebbe passare un gatto e potrebbe partire potrebbe andare a litigare con un altro cane queste sono tutte cose vere se tu non conosci il tuo cane numero uno e se tu anziché educare il tuo cane vivere con il tuo cane lo hai addestrato con metodi magari anche un po come dire poco simpatici è chiaro che se io addestro il mio cane non far le cose non perché voglia non fare quelle cose ma perché obbligato ma se sotto sotto c'è il desiderio appena potrà lo farà e quindi abbiamo un cane che non può di cui non possiamo fidarci non lo posso lasciare libero quindi con il cane bisogna lavorare affinché ci dia ascolto affinché ci dia un minimo di che che abbia un minimo di riferimento su di noi ma soprattutto se uno impara a vivere con il proprio cane non esiste la frase non sai mai cosa gli passa per la testa a me sta roba mi fa venire i brividi perché significa avere in casa un animale da temere significa non aver capito una mazza dell'animale che si è scelto per la vita ma io so perfettamente cosa passa nella testa del mio cane sempre e comunque perché perché i cani comunicano i cani trasmettono le loro emozioni che lo vogliono fare volutamente o che lo facciano involontariamente ma il loro corpo parla se il mio cane sta per fare qualche cosa io lo so ma soprattutto tenendo il cane in privazione è ovvio che appena sarà libero farà quello che vuole questo cosa significa che il mio cane e tutti i cani che ho avuto sempre stati così anche dago che è stato l'ultimo che è arrivato nella mia vita e come lui tutti gli altri cani recuperati a livello comportamentale io arrivo a lasciarli liberi sapendo esattamente cosa faranno e cosa non faranno perché perché ci vuole conoscenza ci vuole studio e soprattutto ci vuole una vita sana se io al mio cane che ha un alto predatorio vieto di fare sempre la predatrice perché la gente è convinta di poter annullare di poter inibire i comportamenti del cane sì a faccio il cane e allora tutte le 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 i secoli e secoli di selezione canina cioè la selezione l'uomo ha selezionato i cani per avere cani che avessero già determinati comportamenti senza dover iniziare ad insegnarglielo tutto da capo quindi pensare di inibire il morso inibire la predazione il predatore ma sono cose da psicopatici da frustrati mentali non è possibile ma ve lo giuro non si può fare quello che si può fare è incanalare queste doti che di cui il cane non può fare a meno cioè se abbiamo preso un cane con la dote dell'aggressività tipo il pitbull io devo farlo essere aggressivo ma nel modo giusto attenzione per aggressività non si intende cane che uccide gli altri cani o che uccide le persone l'aggressività è una dote di razza un talento una capacità che il cane deve avere che è stato selezionato a seconda della razza c'è la razza più aggressiva meno aggressiva io posso decidere di inibire la sua aggressività quindi non ti faccio fare mai niente di aggressivo anche se sei un cane con la dote dell'aggressività quindi sento quelle robe non fate fare il tira e molla ai pitbull che sennò poi diventano aggressivi ma il pitbull è già aggressivo che non significa cattivo significa che ha già quella capacità quella componente l'aggressività è una capacità se poi il cane non è gestito bene diventa un problema ma è una capacità l'aggressività serviva a determinate mansioni quindi le scelte sono due o non ti faccio essere mai aggressivo seguendo la logica di ti inibisco ti tengo sempre a bada ti faccio fare lavori di concentrazione tutto calmo tutto concentrato non che vita da merda però oppure incanalo questa tua aggressività facciamo dei giochi giusti per la tua razza facciamoti tirare fuori tutte quelle che sono le tue capacità i tuoi talenti naturali che l'uomo voluto e selezionato io furbamente ho scelto proprio te che sei di quella razza che dovresti fare quelle cose e allora a quel punto quando il cane è soddisfatto quando il cane fa le cose per cui è stato selezionato anche per finta quindi pitbull aggressività deve combattere cosa faccio lo faccio combattere con i cani ma certo che no usiamo dei dei pneumatici dei tir e molla belli fighi delle dei manicotti e gli facciamo esercitare la sua aggressività in modo ludico ricreativo che non faccia del male a nessuno a quel punto quando il cane scarica 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 quotidianamente non si va a cercare altre situazioni per fare il cane aggressivo se invece io lo tengo compresso questo non lo puoi fare 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 e questo qui inizierà a cercarsi le migliori soluzioni attorno per poter fare quello che noi gli impediamo di fare ed ecco che abbiamo il pitbull che poi inizia a voler attaccare gli altri cani ma il pitbull non è che perché è stato usato per i combattimenti deve necessariamente attaccare i cani il pitbull può essere assolutamente un ottimo cane da città bisogna sapere come gestire le varie razze e bisogna sapere quali attività far fare alle determinate ai determinati cani di determinate razze qual è l'abitat giusto dove portarlo a fare attività perché anche questo importante è tutta genetica per cui tornando al discorso di baku io lo so perfettamente che se passa il gatto baku non parte ma non è solo baku è sempre stato così con tutti i miei cani e i proprietari che lavorano con me arrivano quando c'è un lavoro fatto bene ad avere lo stesso risultato ma perché perché baku sa che c'è il momento in cui può fare la predatrice la porto in certi posti dove può farsi anche la rincorsa dietro allo scogliattolo e bada bene scogliattolo o coniglio perché già di indole sono prede quindi vivono in allerta sempre quindi che non veniate a dire a povero scogliattolo gli roviniamo la vita quello vive in allerta che passi il cane che passo io quello scappa comunque e soprattutto lo faccio fare con animali che so che si salvano cioè lo scogliattolo è là attaccato all'albero se baku anzi ce l'amando anche lo scogliattolo sale il coniglio si nasconde nella tana molto semplicemente allora quando gestisco un cane così nel momento in cui dico no e no e quando impara che ci sono dei no e ci sono dei sì il cane cosa fa ti guarda quindi quando io lascio libero il mio cane lei mi guarda se vede il gatto e giustamente le viene il desiderio di andare non parte perché intanto non è compressa come una pentola pressione ha imparato che ci sono momenti dove si può fare momenti dove non si può fare a quel punto mi guarda per chiedermi il permesso e se in quel contesto non si può fare le dico no no bella mia non si può fare e lei se ne sta ma se ne sta perché non le costa fatica rinunciare a quella situazione quello stimolo perché tanto sa che poi c'è il momento in cui potrà fare quella determinata cosa tutto chiaro fino a qui spero sia stato fino a qui chiaro semplice lineare ok allora amici come vi ho detto a inizio diretta non date spago ai maleducati a quelli che vengono a fare i cattivoni a scrivere cagate lasciamoli perdere quello che avevamo da dire l'abbiamo detto quello che era da dimostrare l'abbiamo dimostrato andiamo avanti per la nostra strada non consideratoli poi io quando posso pian pianino mi metto lì li blocco così che andassero a commentare solo le pagine che piacciono a loro e che non cagassero il cane ecco detto questo andiamo avanti sul discorso libertà se avete delle domande scrivetelo in maiuscolo che così io mi accorgo che uno sta proprio se no tutti se dovessi leggere tutti i commenti un disastro bene quindi la libertà un'altra un'altra cosa che un altro errore comune che si fa che proprietari poverini fanno questi errori perché giustamente non lo sanno non sono cinofili no aspetto che il cane cresca e poi lo libero un po pericolosetta come scelta è un po pericoloso aspettare che il cane cresca e poi lo libero come dire aspetto che mio figlio faccia 40 anni e poi gli do le chiavi di casa ma dagliele prima così si toglie dalle balle allora parte l'esempio che non è propriamente calzante questo cosa significa è un errore perché il cucciolo quando è cucciolo quando ce lo andiamo a prendere tutto strofugnetto pelosetto eccetera eccetera non ha sufficiente autostima per fare cose senza di voi certo è che se andiamo al parco siamo liberi nel bosco e quello che vi pare vede lo stimolo prende e va ma non perché sta scappando da voi è a questo pianeta da tre mesi è anche giusto e sacrosanto che voglia conoscere il mondo se parto da subito a rompergli le balle con questo no questo no questo no ma speriamo che arrivi a mordere quel cane così magari riflettiamo ok quindi bisogna dargli anche un pochino di libertà sin da subito ma il cucciolo nel momento in cui vede il lui per necessità deve avere una figura di riferimento dal momento in cui è tolto dalla mamma automaticamente il suo punto di riferimento diventiamo noi che lo abbiamo adottato già nel giro di un giorno ora non vi dico di liberare il cucciolo dopo un giorno ma dopo una settimana si può fare e liberarlo cosa significa andare in una zona tranquilla lontano dalle macchine no perché c'è qualcuno che quando parlo di libertà dice ma figurati se devo liberare il cane in mezzo alle macchine per farlo essere felice io vado col cane senza guinzaglio in mezzo alle macchine ma perché mi sta vicino mi ascolta e io odio il guinzaglio mi pesa mi dà fastidio ma chiaramente non è che per rendere il cane felice dobbiamo lasciarlo libero in città questo assolutamente no ma quando siamo nel bosco io vado col mio cuccioletto dove le macchine non ci sono dove non ci sono pericoli magari vedo già a distanza se arriva un cane che mi può far paura che è troppo grosso e a quel punto me lo prendo ma quel letà lì il cuccioletto dipende dalle vostre labbra se voi vi muovete se lui se ne accorge vi darà retta verrà con voi e se anche prende il via verso una destinazione non adatta basta riprenderlo rimetterlo in carreggiata giocarci un attimo e ripartiamo certo che se partiamo da subito con sitz futz latz trick track e no 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 i cani che pensano di chiamarsi no non è un bel vivere quel cane man mano che cresce farà sempre peggio sarà sempre più ingestibile aspettate che leggo qualche domanda allora su tiptock non vedo domani ma sì quindi mi stai dicendo che il mio cucciolo da caccia in realtà è un pitbull ma non so come tu abbia fatto a capire questa cosa qua ma vabbè no se hai un cane da caccia non è un pitbull certo è che il pitbull nella sua genetica ha il sangue del terrier la genetica del terrier quindi in realtà un po cane da caccia lo è certo che ha dei comportamenti che si diversificano da cani di caccia di altro tipo andiamo qua allora col mio pitbull prova a giocare al tira e molla ma niente lui vuole solo masticare la cosa che gli metto davanti per giocare e non pensa proprio a tirare beh questa è una cosa molto strana per un pitbull non dico che non sia così però è interessante magari bisognerebbe pensare se il tuo cane non sia inibito non necessariamente da te magari è lui di suo un leggermente insicuro per cui non osa fare quel gesto più di tanto perché comunque fare il tira e molla con un altro essere vivente significa contendersi un gioco una preda una finta preda eccetera quindi alcuni cani magari per un trauma magari per genetica magari per cose successe anche se vorrebbero non riescono a fare il tira e molla perché sono un po chiusi e allora sarebbe cosa buona e giusta lavorare con un educatore per capire come aprirlo ma ragazzi se non c'è alla base la conoscenza della comunicazione canina non si va da nessuna parte non si può pensare di avere un cane o di lavorare con i cani senza conoscere questo paradigma fondamentale deve essere alla base per stare con un cane da quando ho iniziato a fare i corsi sulla comunicazione i video corsi sulla comunicazione canina i proprietari semplici di cani mi dicono ma sai che io adesso riesco a gestirmi molto meglio la libertà perché capisco i cani che arrivano capisco il mio cane quando sono insieme capisco se fanno una cosa buona una cosa meno buona quindi ragazzi è importante che vi leggiate per esempio i libri di turid rugas adesso lei che è stata lei sì che è una grande numero uno al mondo non come certa gente che parla e se lo dice da solo ma turi rugas è una delle pioniere sul della comunicazione canina ecco lei che ha scoperto la comunicazione canina partendo dai segnali di stress e di calma ma adesso scritto anche il libro 25 anni dopo o 15 anni dopo lo devo andare a rivedere in cui lei ha dato il via ad un mondo che poi altri hanno approfondito ancora e si sono scoperte una marea di cose ma tantissime cose e lei poi ha riscritto il libro integrando le sue scoperte quindi intanto vi potete leggere tutti i libri di turi rugas leggetevi la vita emozionale degli animali di mark beckoff perché nel 2022 credere che i cani non amino che non hanno emozioni veramente mi sembra che si stia scendendo dalla luna per l'amor del signore ma perché vi mettete in casa un cane se poi dovete pensare che sia un serial killer o un animale apatico ma per carità oppure appunto corsi andate a vedere michele minunno dal vivo che che lui un altro grandissimo numero uno altro che storie qua adesso ed è affascinante vedere queste persone che hanno imparato la comunicazione canina dai cani la attuano e ci sono fenomeni che dicono ah ma tu sei un umano quindi il cane ti vede umano e la comunicazione canina che tu usi non potrà mai essere comprensibile a lui che cane tu che sei umano invece sì perché cari miei ci sono dei segnali universali che si capiscono da animale animale cioè guardate un semplice documentario in televisione ma l'elefante se deve scacciare il leone non usano la comunicazione canina che lo capisce sia il leone che la tigre che un altro elefante che un capriolo quello che è quindi ci sono delle cose che se le impariamo ad utilizzare che se imparassimo ad utilizzarle veramente ci aiutano a vivere molto meglio con il nostro cane quindi studiate la comunicazione canina questo vi aiuterà a gestire meglio la libertà quindi abbiamo detto vediamo domanda pur avendo lasciato la mia eva libera fin da cucciolissima se vede un gatto parte chiude le orecchie e via mi dà un consiglio non tanto per impedirglielo ma almeno che si stoppi bene questo interessante cioè la mia cucciola è stata libera sin da subito eppure quando vede il gatto parte noi non dobbiamo solo pensare alla libertà dobbiamo pensare anche alla vita che facciamo fare a questo cane alle attività che facciamo fare questo cane cioè non basta pensare di avere un cane e quando si dice gioco col cane gli lancio la pallina e finisce lì non funziona così per ogni cane ci sono giochi diversi quindi mi viene da pensare hai lasciato libero il tuo cane sin da cucciolo ma magari ti sei concentrato poco sul giocare alla predazione sul creargli delle situazioni in cui possa giocare a fare il predatore banalmente un tir e molla un saccoccio un fantoccio un manicotto attaccato a una corda con un cane con l'alto predatorio se vado in un parco corda di 45 metri inizio a muoverla a lanciare o a correre con sta affare attaccato dietro il cane si diverte tantissimo scarica le sue energie facendo una cosa che gli piace che che proprio nelle sue corde quindi predatorio non importa che l'animale sia finto e non sia vivo chiaramente l'animale vivo sarà sempre più bello ma se io ti faccio scaricare abbondantemente in maniera soddisfacente con il fantoccio dopo non avrai più tutta questa necessità di rincorrere proprio tutti i gatti e a quel punto anche un no riesce a sentirlo perché non ti costa fatica ok allora diamo avanti abbiamo detto si lascia libero il cucciolo sin da subito si fa se io non vi non leggo le vostre domande riscrivete perché c'è sto seguendo tre schermi diversi allora leggo ancora una domanda e vado avanti su come ci si deve comportare per insegnare al cane a rispondere al richiamo però mirco non sarei così sicura del fatto che i cani possano avere il senso del tempo comunque anche io odio il guinzaglio e fino ad ora ho litigato con quasi tutti e devo ammettere che dopo più di 30 anni che vivo con i cani ascoltandoli ho imparato moltissimo se stupendo grazie non sarei così sicura del fatto che i cani possono avere il senso del tempo non capisco a cosa ti stai ho detto qualcosa sul tempo no perché io parlo e divago boh va bene allora cosa fare però per insegnare al cane a gestire bene la libertà innanzitutto bisogna ricordarsi che se il cane non viene da me o se il cane si allontana da me è perché ha trovato qualcosa di meglio da fare prima cosa da fare per risultare sempre interessante agli occhi del nostro cane e stare sempre in movimento mi devo muovere sempre vado sempre avanti l'errore più grande il cane che si ferma ad annusare e io mi giro e lo aspetto nel momento in cui vi metto in questa posizione guardare il cane mentre lui si faglia a fare i suoi il cane mentre si faglia a fare i suoi un colpo d'occhio ce lo dà ce lo dà al volo magari rapidissimo e se quando ci guarda ci vede con il petto rivolto verso di lui noi gli stiamo dicendo bella mamma continuo a farti la faraccia tua che se c'è un pericolo ti controllo io quindi il cane ben contento rimane lì dov'è a maggior ragione se dico vieni rimanendo guardarlo con la voce dico vieni ma col corpo sto dicendo stai pure là tranquillo e lui ti dice va bene poi pensate quando c'è il proprietario umanesco che va e l'omena e il cane fa ma me l'hai detto tu che dovevo stare perché potevo stare qui ho capito che con la voce detto vieni ma col corpo mi ha detto un'altra cosa io cane guardo prima il corpo che ascoltare la voce altro errore dire vieni e andare verso il cane gli sto dicendo ciccio sto andando nella tua stessa direzione quindi quando diciamo il vieni per evitare che vada che ne so dall'altro cane e gli vado dietro gli sto dicendo io sto andando là e lui ti fa anch'io ci vediamo là e va anche se ho detto vieni ma il cane prima che ascoltarci ci guarda e per imparare ad ascoltarci ci deve essere coerenza tra voce e linguaggio corporeo per questo serve studiare la comunicazione canina quindi la cosa migliore da fare sto sempre in movimento un po come in amore no noi amiamo i nostri cani ecco in amore vince chi fugge quindi fuggo sempre un po dal cane non sto lì ad aspettarlo più aspetto più sto fermo più gli do la possibilità di notare stimoli diversi e sempre più lontani più cammino e più gli metto un po di sprescia come dire bello mi faccio le farine ma devo andare perché questo qui c'ha premura lo perdo ok quindi questa è una cosa importante quando lo chiamo lo chiamo dandogli le spalle quindi vieni lui nel momento in cui si gira e ci guarda ci deve già vedere che stiamo andando via ok quindi questa è coerenza tra voce e corpo e per insegnare al cane a gestire la libertà e quindi l'andare sempre via magari quando si distrae quando si perde tanto su un odore quando va a salutare e vediamo che non sta dando fastidio perché se va a salutare vedo la signora che si spaventa che tiene il cane che sta sputando fuoco magari non è il caso in quel momento di lavorare su queste cose vado e prendo il cane invece in situazioni tranquille un'ottima cosa da fare giocare a nascondino ogni tanto spariamo poi quando siamo nascosti in modo da guardarlo chiaramente tenerlo sotto controllo sappiate che i cani non mettono a fuoco i soggetti statici sono più portati a notare i soggetti in movimento per cui se vi nascondete anche malamente dietro un albero dietro un cespuglio che non vi copre manco tutto basta stare fermi immobili spesso volentieri non vi notano certo che se vi vedono andare lì e vi fermate vi ha già notato da prima e vi mette a fuoco chiaramente per cui lo chiamo da nascosto lui tira sulla testa dice oddio dove è finito un pochino di panico quella pauretta lì serve proprio di insegnargli ciccio fatti pure i cavoli tuoi ma guardami sempre un po perché io potrei sparire da un momento all'altro quindi col nascondino riesco ad insegnargli a darmi sempre un occhio con il richiamo e le spalle e se ho anche una certa premura che tu arrivi corro questo ti insegna ad abbinare la parola vieni al fatto che io me ne sto andando e quindi mi raggiungi qualcuno potrebbe dire beh ma se il cane invece è autonomo e indipendente e anche se mi vede andare via non viene perfetto bisogna fare un lavoro con un educatore per capire perché così autonomo e indipendente cosa fare per mettervi un po più in relazione la libertà è un concetto che non può mancare al cane bisogna lavorarci bisogna arrivarci quale che sia la modalità è chiaro che io non lascio libero un pastore che non è parlando di cani che non sono mai stati liberi è chiaro che io non lascio libero un pastore allo stesso modo di come farei con un aschi allo stesso modo di come farei con un segugio ognuno di queste tipologie di cani avrà un modo più adatto per abituarlo alla libertà e avrà caratteristiche che mi devo anche mettere in testa per capire cosa aspettarmi da quel cane cosa no sapere già che cosa farà cioè io non posso concepire l'idea di gente che dice non sai mai cosa gli passa per la testa lo bisogna saper sempre è italiano lo bisogna saper sempre e si può fare ma non significa essere nostra damus non significa essere che ce la crediamo si può fare studiando la comunicazione canina studiando le caratteristiche di razza del nostro cane e vivendoci il cane non sempre in proibizione con i divieti di tutto questo mondo vivetevi il cane e così capirete cosa gli piace fare e cosa no e se ci sono situazioni in cui il cane proprio non riesce a trattenersi perché una cosa più bella più forte di lui vorrà dire che ci sono dei momenti in cui ti leggo e troviamo un compromesso ok ma si può fare molto meglio se voglio potenziare il richiamo qui è l'ultima cosa che vi dico poi vado a leggere le vostre domande se voglio potenziare il richiamo della serie quando ti chiamo cascasse il mondo tu vieni da me con certe tipologie di cani un po più difficile perché se ciò non è italiano se ho il bracco se ho i cani da caccia è un po più difficile fare il richiamo proprio alla prima ci si può arrivare è un po più dura come cosa perché anche la conformazione fisica del cane non è casuale l'uomo che prima era intelligente e poi diventato cretino ha voluto il cane l'ha selezionato con delle caratteristiche precise per con delle funzioni precise i cani da caccia hanno le orecchie pendule perché non dovevano farsi distrarre dai suoni dovevano concentrarsi sull'odore quindi è normale che il cane da caccia sia meno propenso al richiamo anche perché ti pare che nel lavoro da caccia il cacciatore lo chiamava nel lavoro da caccia e il cacciatore che segue il cane ok è proprio un lavoro di cooperazione dove il cane è di aiuto e va anche in sostituzione quasi all'uomo quindi a seconda della razza ci sono cose diverse da fare ma per potenziare il richiamo in linea generale bisogna giocare con il cane fuori casa io non capisco perché le persone ci sono persone che non giocano mai col cane la loro idea di gioco è lo porto all'aria cani e corre con gli altri cani questo non è gioco spesso e volentieri se non ci accorgiamo di cosa sta succedendo e questo per farlo bisogna studiare la comunicazione canina ma spesso e volentieri quello che succede all'interno di aree cani all'interno di dinamiche con cani dove c'è tanta velocità tanta dinamicità non è gioco anzi è un'attività che carica di energie negative il mio cane torno a casa che dopo mi cammina sui muri perché l'ho fatto stressare un'ora e mezza ma no si divertiva correva ragazzi non è che se il cane scodinzole sempre felice se il cane corre sempre contento ci sono un sacco di cose da notare e non siamo stati educati a notarli quindi bisogna che ognuno di noi in coscienza si facesse un percorsino per capirle queste cose no bene però bisogna giocare fuori casa perché se partiamo dal concetto che il cane quando non viene da me è perché ha trovato qualcosa di meglio da fare se io inizio a giocare con te fuori casa e lo faccio secondo le tue doti di razza se un cane lottatore facciamo giochi da lotta se un cane conduttore facciamo giochi da conduzione se un cane da caccia facciamo vabbè basta andare nel bosco il cane da caccia sta tutto da solo se ti do quello che vuoi ok quindi col cane da caccia devo fare dei giochi che possano permettergli di ottenere un risultato migliore ma questo in generale con tutti i cani devo fare dei giochi che gli permettano di ottenere un risultato migliore di quanto non possa far da solo ok se io inizio a fare questi giochi fuori nell'abitato giusto per il mio cane dove già gli mette in circolo un po di formicchine che gli fanno venire con la voglia di fare proprio quella cosa è ovvio per esempio nel bosco che il cane sia più attento alla ricerca di qualche cosa da predare se io lì ti faccio fare il gioco che tu vuoi seguendo tutte le tue doti seguendo tutti quelli che sono i tuoi gusti principali di razza ecco che abbiamo un cane che quando dici vieni non è vieni a che palle mo questa mi mette il guinzaglio andiamo a casa e finisce la festa non vengo no vieni per il cane deve diventare è natale non vieni sono il tuo dio superiore onnipotente ti comando e tu obbedisci no hitler ha fatto già il suo corso anche se vediamo che da questo pochi hanno imparato qualcosa noi dobbiamo essere più gandi quindi non è che stiamo dicendo che vogliamo riempire d'amore il nostro cane e non dargli regole e fai quel cacchio che ti pare no ti diamo le regole ti diamo dei limiti ma ti diamo anche amore amore se non significa che ti riempio di coccole dalla mattina alla sera significa che ti do da mangiare sano che facciamo i giochi giusti che ti portano i posti giusti per il tempo giusto necessario eccetera 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 a quel punto per il cane vieni non è che palle ma è è natale quando dice vieni so che faremo quella cosa figa lì e allora vengo a maggior ragione soprattutto se la la distrazione che che ho davanti poi alla fine non mi fa ottenere lo stesso risultato che ottengo con te quindi per esempio faccio l'esempio più chiaro del cane che vuole fare il tir e molla se rincorro il gatto e tutte le volte il gatto quello che vive in quella strada io non lo riesco ad acchiappare perché poi si infila nella cancello e finisce lì diversamente se quando fai quella roba io ti chiamo per fare il tir e molla cioè il gatto ti fa venire lo schirimero di fare l'aggressivo basta dire al cane che non deve fare quello per cui è stato selezionato basta dire al cane non devi diciamogli vuoi fare questa cosa la farai con me vieni da me a farla quindi capite bene che dal punto di vista del cane se rincorro una volta il gatto e non riesco a prenderlo lo rincorro un'altra volta non ci riesco a prenderlo rincorro un'altra volta non riesco ma invece tutte le volte che mamma o papà perché sì per me i cani sono come figli ma nel senso che hanno una psiche molto simile ai bimbi e questo ci aiuta a capire come muoverci se ogni volta che mamma e papà dicono vieni io vado e riesco a fare il cane aggressivo quando di quando sento vieni io quasi non vedo l'ora che tu dica vieni ok provateci se anche vi sembrano delle sciocchezze non vi costa nulla tante volte più una questione di pigrizia perché la gente non ha voglia di organizzarsi non ha voglia di uscire con il giochino eccetera eccetera o i cani tutti i cani pure quelli mignon quelli che noi chiamiamo da compagnia nascono tutti da cani da lavoro hanno tutti bisogno chi più chi meno di fare attività precise per la loro razza se io manco su questo non so non sto soddisfando il mio cane di conseguenza avrò un cane che si mi vuole bene sta con me eccetera ma quando vede la cosa più interessante mi fa ciao core torno tra un po chiama chiama che arrivo è un sì sì chiama pure morrivo quindi se vogliamo avere un richiamo efficace dovete giocare col cane togliamoci dalla testa l'idea di controllare i cani non dobbiamo controllarli dobbiamo indirizzarli dobbiamo fare in modo che facciano le cose non perché devono ma perché vogliono ma ragazzi ma è così difficile capire che c'è un sistema migliore è così difficile provarci almeno dire vabbè ci ho provato detto una stronzata io il mio cane lo costringo a venire però almeno ci ho provato ma perché non fare una cosa che andrebbe a migliorare il rapporto con il proprio cane perché ci hanno sempre detto che col cane si fa così dominanza gerarchia capobranco ancora andiamo a fare lezioni dove facciamo la condotta al guinzaglio lo teniamo a sinistra che può non è che tutti gli educatori che fa ste robe vi stanno insegnando male ma non è solo quello la roba e qui poi concludiamo e vi leggo e poi vi saluto la roba della dominanza gerarchia capobranco cana sinistra foods plus ma siamo deficienti ma da cosa nasce questa roba qui nasce dal periodo post guerra in cui i cani sono stati introdotti nell'esercito e guarda caso proprio nello stesso periodo ricercatori molto famosi david mitch hanno studiato i lupi ma la mente ma la mente perché l'ha detto lui non è che lo sto dicendo io poi lui ha ritrattato le sue teorie e hanno coniato il termine dominanza gerarchia capobranco con il cane portato nell'esercito e sentendo ricercatori che dicevano dominanza gerarchia capobranco cosa hanno pensato bene di fare di applicare le stesse regole militari al cane se voi pensate ai militari soprattutto quelli di tanti anni fa c'era la gerarchia c'era prepotenza chi era più alto in grado chi era più alto in grado doveva spesso volerlo vediamo anche dei film da racconti doveva umiliare sottomettere l'altro giochi di bullismo e cose di questo tipo qua quindi è stata applicata la regola la legge militare sul cane che il cane di militare non ha niente perché ci fanno tenere alle lezioni di conduzione al guinzaglio il cane a sinistra che tu dici ma che cazzo io uso la destra ma perché devo tenere il cane a sinistra e io l'ho fatto per tanti anni di costringere i clienti a tenere il cane a sinistra e credevo anche di sapere il perché dicevo perché poi in strada tu devi andare contro la direzione della macchina quindi tieni il cane dalla parte più protetta ma ci sono strade dove il cane a sinistra il cane rischia la vita il cane ce lo fanno tenere a sinistra perché a destra si teneva il fucile ora ditemi se nel 2022 va bene che sta succedendo quello che sta succedendo qua poco distante da noi ma non è che abbiamo necessità di uscire di casa col fucile quindi tenere il cane a sinistra cioè io sono mancino mi trovo anche bene col cane a sinistra ma c'è gente che la maggior parte usa la destra e tenetevi sto cane a destra ma chi se ne frega insegniamogli a non fare a zig zag non a dover tenere sempre un lato e che cacchio poi il buon david mitch nel 2014 17 non mi ricordo dice raga ho sbagliato no non è proprio dominanza gerarchia capobranco ho studiato i lupi che i lupi non sono cani parte questo e ho scoperto che in realtà costituiscono un branco familiare in realtà non è tanto giusto parlare di cane alfa ma di genitori collaborano cooperano non è vero che quando c'è da mangiare il capobranco è dominante prepotente non è vero vengono fatti mangiare prima i cuccioli e c'è tutta una storia che non vi sto a dire sulla dominanza gerarchia capobranco ma questo per dire che da lì ci stiamo trascinando ancora oggi concetti militareschi che non ci servono al cane non serve e ci perdiamo una bella fetta di vita col nostro cane quindi tenetelo libero portatelo in posti giusti insegnategli ad essere un cane che possa stare libero è chiaro che quando è cucciolo qualche qualche inciampo lo deve fare qualche sbaglio lo deve fare se no come impara non farlo voi siete gandi vi vestite di luce vi armate di pazienza e lo andrete a correggere quindi no sei andato là ti riprendo te ne stai qua ci rivai ti riprendo o vediamo chi si arrende il cane per natura che è un predatore insiste ma tu pensa se si dovesse arrendere al primo coniglio mancato morirebbero tutti di fame quindi nella sua natura deve insistere quando voi volete insegnare al vostro cane qualcosa anziché concentrarvi sull'essere violenti usar la voce forte essere immediati no siate solo più predatori di lui siate testardi siate tenaci continuate a correggerlo fino a che lui non prova a modificare la sua risposta e lo fa nel giro di dieci minuti fatto con le giuste maniere gentilmente non si capisce niente mi spiace che da instagram non mi capiate venite su facebook venite su youtube venite su tiktok e qui adesso lo chiudo non lo so perché non si sente scusate controlla l'audio ma come faccio a controllare l'audio tanto quasi finito adesso leggo le vostre domande cambiate canale andate su youtube a guardare adesso leggo le vostre domande poi tanto abbiamo finito ho un cucciolo di maltese come faccio a farlo sfogare oh bella questa domanda perché ci sono cani assolutamente sottovalutati instagram potrebbe spegnersi perché il telefono si sta scaricando quindi anzi visto che qua non mi sentite io blocco blocco giusto non mi sentite vero mi sentite non si sente ok allora questa del maltese una bellissima domanda perché ci sono persone che credono che ci siano cani di serie a e cani di serie b il maltese come tanti altri cani si crede che sia un cane da compagnia non esistono i cani da compagnia i cani da compagnia sono stati catalogati successivamente ma nel sangue hanno il sangue hanno la genetica del cane da lavoro sempre anche quelli di taglia piccola perché il cane ha selezionato il cane di taglia piccola perché prima di tutto gli serviva per infilarsi nelle tane stanare le prede uccidere i topi infatti il maltese oltre che essere visto dipinto con le dame da compagnie usato come scaldotto quindi scalda e grembo non doveva solo far quello all'occorrenza doveva magari uccidere anche i topolini che andavano a mangiare le riserve di cibo doveva allarmare se arrivava qualcuno un piccolo cane da guardia con tante mansioni diverse allertare per incorrere roditori fare compagnia eccetera eccetera quindi ho un cucciolo di maltese come faccio a farlo sfogare deve fare banalmente tanto tira e molla tanta ricerca nella natura andare boschi via ma c'è al pelo si hanno lo spazzo lì ok chi ha scritto domande che non ho letto riscrivetele adesso arrivo qua su facebook mi scrivete anche delle domande un po difficili da tradurre mirko sai i pedoni come dovrebbero camminare per strada tendenzialmente i pedoni dovrebbero camminare contro la direzione delle macchine in direzione opposta a quella delle macchine così vedi arrivata la macchina e non ti fai schiacciare ma questo per dire ad ogni modo vediamo le vostre domande scrivetemele in maiuscolo le domande così io le cerco e le leggo angela è vero che qua posso mettere le domande sullo schermo domanda premette mi cani sono quasi sempre liberi delle volte però mi piacerebbe quando ci troviamo in ambienti sicuri che esplorassero di più l'ambiente ma loro restano quasi sempre vicino a me al passo e resto indietro loro e resto indietro loro si girano e se sono troppo lontana si bloccano come posso farli capire che non scappo non è detto che lo facciano perché credano che tu scappi dipende anche dall'età la mia che adesso a dieci anni inizia a non avere più troppe esigenze e se inizia a far troppo caldo se inizia ad essere stanche vorrebbe tornare a casa ecco che si che si riduce la distanza e inizia a guardarmi parecchio quindi bisognerebbe capire perché ti guardano perché ti guardano così tanto non vanno fare quello che devono fare salto di palo in frasca adesso vengo di qua tik tok allora è il maltese l'abbiamo letto qualcun altro per le processionari è vero che l'acqua aiuta come primo intervento ovviamente poi veterinario e sai che questo io non te lo so dire bisogna chiedere al veterinario io in linea di massima nel periodo di processionarie evito di andare nelle pinete che è l'albero in cui si annidano le processionarie poi è vero che il vento le fa arrivare un po ovunque però basta stare attenti io quando lascio libero il cane o sempre mille occhi una cosa importante non si lascia libero il cane e poi state al telefono parte che non ci dovreste stare neanche quando ce l'avete al guinzaglio veramente io penso che per certi versi il cane avere un cane sia tanto impegnativo richieda tanta responsabilità quanto avere una macchina quella da guidare che è vero che il cane non è una macchina sarei deficiente dopo quello che vi ho detto a pensare questo ma la responsabilità che comporta sì perché la macchina può diventare un'arma il cane può diventare un'arma se mal gestito per guidare una macchina ci vuole la patente per avere un cane ci vorrebbe la patente ok quindi bisogna avere questa considerazione di usare e di usare con giudizio il tempo lo spazio le energie dedicate al nostro cane quando sono col cane non sto al telefono come non ci sto alla guida quando lo lascio libero maggior ragione cioè quando lasciamo libero il cane bisogna comunque avere mille occhi perché per quanto possa essere bravo obbediente e mi fido e so che cosa combina io non so cosa combinano gli altri e poi soprattutto devo agire nel rispetto delle persone io devo sempre avere gli occhi puntati sul mio cane perché se la persona che arriva mentre io il cane libero vedo che in qualche modo inizia a non sapere più dove passare perché percepisco che ha paura la devo legare o fermarla o richiamarla tranquillizzare la persona perché la mia libertà finisce dove inizia la libertà altrui quindi io non posso vivere di prepotenza e spadroneggiare e vedere che se una persona ha paura chi se ne frega tanto il mio cane tranquillo no anche quelli che hanno il cane al guinzaglio io ho il cane libero tu ce l'hai il guinzaglio ma perché te lo devo far avvicinare a me ste robe mi mandano fuori di testa quindi sono sì per la libertà ma sono anche per il rispetto non si fanno avvicinare i cani agli altri cani tenuti al guinzaglio perché magari quei cani sono al guinzaglio perché hanno paura e quindi scappano perché sono aggressivi perché c'è un altro problema quindi chiamatevi cani non sarà mica per forza quello il cane che dovevamo conoscere a tutti i costi no ci vuole rispetto ci vuole giudizio ci vuole buonsenso allora ad un labrador oltre al nuoto che tipo di gioco è più divertente per questa razza bravo e in bocca al lupo grazie allora chiaramente labrador retriever come golden retriever flat coated retriever retriever riportare riportare che cosa anticamente riportavano le papere quindi significa che venivano utilizzati nella caccia in palude dove l'acqua è tanta e non altissima dove devo cacciare volatili e a volte capita che lo devo prendere anche in volo perché la papera che è stata presa male si rialza in volo e io devo avere quella capacità lì e quindi la cosa migliore da fare con un retriever è simulare quel tipo di caccia quindi creare un gioco che in bocca ricordi la consistenza di un animale se l'animale morbido e io faccio giocare il mio cane con la corda non è la stessa cosa meglio la famosa treccia di stoffa di cui vi parlo sempre quella fatta in casa con indumenti vecchi se voi intrecciate un indumento vecchio fate le strisciolie la consistenza è più simile a un animale per il cane in bocca la sensazione piacevole la corda sbatte e soprattutto ti vado a riprendere un po di tutte quelle fasi della caccia che avresti dovuto compiere e quindi il lancio prendi e riporti ti fermi ti leggo te lo vado a nascondere e lo devi cercare e facciamo la predazione quindi taccato alla corda loro devono fare la caccia in volo quindi anche un tira e molla attaccato al ramo ho fatto passare sopra un ramo con una corda tiro su e giù cioè devo pensare a quel cosa faceva la razza anticamente a cui appartiene il mio cane e come faccio io oggi a simulare qualcosa di simile questa questo è il trucco questo è il segreto se voi iniziata a fare ste robe le fate fuori casa io non lavoro più perché non mi chiamate più non vi servirà più lavorare sul richiamo e avrete dei cani che vi danno retta almeno il 90 per cento delle volte perché poi sul fai da te magari certe cose senza un educatore non le vedete però vi cambia tantissimo la qualità di vita con il vostro cane andiamo qua su tik tok vediamo jack russell tira il guinzaglio e cammina a fianco libera come posso correggerla al guinzaglio queste sono cose interessanti e qui potremmo aprire dei libri c'è un cane che in una determinata circostanza fa una cosa e senza quella circostanza ne fa un'altra quindi cane che al guinzaglio tira ma libero sta bravo significa che questo cane sfrutta la situazione del guinzaglio per scaricarsi a livello di energie tirare per lui è un lavoro si è creato questa cosa anche inconsciamente ovviamente per darsi un po di pace emotivamente perché tirare costa fatica quindi la domanda non è come insegno il cane a non tirare al guinzaglio la domanda è gli sto dando la giusta vita che si merita un jack russell lo sto facendo scaricare come si dovrebbe scaricare un jack russell e quindi poi mi chiedere come si dovrebbe scaricare un jack russell andate a vedere le origini del jack russell per cosa veniva usato che cosa doveva fare andatevi a vedere i video ci sono video su youtube in cui una muta di cinque jack russell riesce ad abbattere un cinghiale cioè la gente si prende il cane di taglia piccola perché pensa che sia meno impegnativo e invece vi siete messi in casa dei generali dei marines quelli vivono per andare in missione di guerra e voi l'avete messo a giocare a bocce e capite bene che quanto meno tiro il guinzaglio quanto meno abbaio quanto meno ti do anche una mozzicata ogni tanto vediamo leggo le ultime due domande poi in realtà non sono mai le ultime due lo dico sempre su instagram si è perso ah ma si era perso da un certo punto in poi io l'ho anche cancellata vabbè prossima volta dobbiamo imparare a fare queste cose allora sai quante volte mi sono vestita di di leve e armata di pazienza e non ho ancora finito e vestitevi di luce armatevi di pazienza è chiaro che se ti vesti di luce ti armi di pazienza e poi però non fai la cosa giusta per la tua situazione col tuo cane e ha voglia di vestirsi di luce ok su tik tok direi che visto che è una pagina creata da poco non abbiamo altre domande leggo le ultime due qua addirittura chiara mi stava seguendo su tutte le piattaforme cioè qua mi scrivi che su instagram l'audio non andava allora ma in caso di meticci come faccio a capire le indole la dote allora intanto aiuta moltissimo l'aspetto e quindi questo ti può aiutare dall'aspetto a capire che tipo di razza ci può essere dentro un occhio esperto quindi bisogna fare una valutazione con un educatore diversamente i suoi comportamenti ma anche i comportamenti in casa cioè c'è quello che corre c'è quello che scava c'è quello che mastica tutto c'è quello che abbaia a seconda di quello che il comportamento che manifesta più facilmente ci fa capire da quale razza lui provenga e che cosa gli sta mancando ragazzi il titolo il mio cane parla non è un caso il cane ve lo dice di cosa ha bisogno basta ascoltarlo come faccio a far smettere al mio cane di distruggere tutto ma lui ti sta dicendo che deve distruggere quindi la domanda è come faccio a fargli distruggere le cose giuste cosa gli do da distruggere basta pensare di inibire il cane basta pensare di controllarlo dobbiamo incanalarlo ok come bimbi a scuola vediamo quello molesto quello che fa cosa o quello portato nella danza quello portato nel disegno i bravi maestri cosa fanno li mettono a fare qualcosa in cui eccellono magari partendo proprio dalle cose che i bambini stessi preferiscono fare la stessa cosa è col cane noi abbiamo questa concezione che il cane ci debba avvedienza che deve fare tutto quello che diciamo il cane si deve adattare a noi ma noi non ci adattiamo un pochino anche a lui non se lo merita il compagno della nostra vita l'amore della nostra esistenza io senza te non posso stare e poi ti porto a spasso una volta al giorno perché ho il giardino e magari in città tra le strade che palle allora diciamo di amare i cani e amiamoli ma amiamoli nei fatti anche va bene le coccole va bene tutto quello che volete io non sono per il no sul letto non sul divano chiaro che se hai il cane che per salire sul divano dopo ti scionca una mano se provi ad avvicinarti è un problema ma se abbiamo un cane pacifico che va tutto bene non ci dà problemi volete farlo salire sul divano volete farlo salire sul letto volete dargli da mangiare dalla tavola e fatelo questo non condizionerà in alcun modo la vostra relazione magari sviluppa dei comportamenti fastidiosi perché poi dalla tavola se glielo dai poi ti abbaia perché non glielo dai quindi sta a voi capire che vizio dargli se darglielo e perché o perché non darglielo cioè i miei cani baku non sale sul letto ma solo perché non ho voglia di stare a sbattere il piumone dai peli dormire che mi finisce magari il pelo in bocca non mi piace ma non perché se sale sul letto diventa dominante oggi il letto domani la madre dopo domani il condominio poi tutta l'umanità e madonna santa che ansia sti cani prendiamoci un gatto se ci sarà dobbiamo pensare così ultime due domande continuate a scriverne ciao per un samoyedo o malamut che giochi consigli di fare con lui e per un pastore del bernese un sacco di quanti cani hai allora samoyedo e cos'era l'altro malamut sono cani nordici e primitivo per cui sono cani che tendenzialmente sono molto più seri nel tipo di gioco loro vogliono la realtà dei fatti vogliono andare a giocare a paintball vogliono fare la guerra e gli servono almeno i proiettili quelli colorati perché devono simulare quindi la cosa migliore con dei cani di questo tipo andare in natura e permettergli di fare i predatori che non significa che li portiamo a sterminare la fauna selvatica del posto in cui viviamo ma dargli la possibilità di spaziare di andare di allontanarsi seguire le tracce rincorrere l'animaletto quella è per questa tipologia di cani l'attività preferibile sono cani con cui tendenzialmente se crei il giochino malamut ancora ancora samoyedo ti dice ciccio ma io sono un cane serio ma vuoi che io mi metta a giocare con il fantoccio ma se è difficile quindi quando ci andiamo a scegliere anche la razza bisogna capire in che contesto viviamo e che cosa possiamo offrirgli noi in quel contesto mi spiace ragazzi state scrivendo una diretta tutta sui giochi mi sa che interesserebbe a molti la prossima facciamo diretta sui giochi specifici mi è stato già chiesto diverse volte me l'ero dimenticato ora leggo l'ultima domanda te l'avevo vista ciao tesoro ciao cara ho un pastore tedesco di dieci mesi ringhia mio marito ma con me i miei figli è dolcissima cosa devo fare ps ti adoro ciao ilaria grazie allora intanto bisogna capire perché ringhia tuo marito e perché non è che me lo devi dire tu bisognerebbe fare una valutazione bisogna capire in che momento ringhia tuo marito qual è la circostanza che lo porta a ringhia tuo marito cosa ha fatto marito quando il cane gli ringhia cosa ha fatto marito prima del ringhio cosa ha fatto marito dopo il ringhio qual è la postura del cane mentre ringhia in che posizione si trova e sul letto e sul pavimento e sul divano e sotto il tavolo c'è capito che sulle cose generiche sono più che contento di rispondervi sulle cose specifiche purtroppo darvi un consiglio potrebbe essere sbagliato e anzi peggiorare la situazione quindi quando avete di queste situazioni è meglio parlarne nello specifico con un educatore cinofilo che faccia un lavoro come può essere quello che faccio io di certo non il coercitivo ma uno dice vabbè ma finché ringhio non è che vado a spendere soldi dall'educatore cinofilo ringhia e basta o ringhio è un inizio che non è che significa che il cane vada sgridato perché ringhiare è comunicazione prima di sgridarlo mi devo chiedere perché sta ringhiando se io parto subito con la sgridata l'effetto sarà che il cane smette di ringhiare e mi morde senza nemmeno avvisarmi più quindi ringraziamo il signore e il cane che ci avvisa prima di morderci e poi capiamo cos'è che lo porta a ringhiare e poi sì uno dice ma non è accettabile che il cane ti ringhi non è accettabile ma magari per il cane non è accettabile che gli rompi i coglioni mentre mangia per esempio no e quindi ti ringhia quindi capiamo qual è la situazione e capiamo come lavorarci per sistemarla per migliorare ok a poi ma la motosamoia del bernese mi aveva chiesto anche del bernese il bernese bovaro del bernese veniva utilizzato per fare la guardia alle mandrie di bovini quindi il bernese se gli dai intanto il posto giusto naturale fai dei giochi a lui basterebbe fare poco tira e molla perché un cane da guardiania è previsto che magari debba fare fuori qualche animale che minaccia il la mandria ok quindi un po di tira e molla gli piace più che stare a fare il giochino con la pallina io farei attività di ricerca in natura adibita al tira e molla alla ricerca della persona sono cani che hanno necessità di sentirsi utili i bovari del bernese quindi anche alcuni esercizietti di base certo non è che amano amino proprio i comandi all'ennesima potenza come i cani da pastore da conduzione che quelli non vedono l'ora che il proprietario gli dica qualcosa che ti prego dimmi dimmi il bovaro è più zen in questo no quindi in realtà io credo che se gli dai l'abitato giusto qualche gioco giusto al momento giusto quindi nel bosco eccetera un po di tira e molla un po di ricerchina il bovaro è a posto poi se un bovaro di sette mesi è un discorso se un bovaro di cinque anni sarà un altro le variabili sono sempre tante allora amici abbiamo fatto un'ora meno male che avevo detto che avremmo fatto poco ci vediamo alla prossima se riesco manterrò la domenica sera potrebbe non essere sempre domenica sera ora decido se sarà domenica sera lunedì sera è che trovare il giorno fisso è difficile io comunque cerco di fare sempre una diretta la settimana e un video commentato la settimana tutto quello che arriva di più tanto meglio vi ringrazio per avermi seguito anche oggi siete stati numerosissimi per quanto a qualcuno sembri poco 300 230 persone ma io sono contento così anche perché la pagina è nata poco tempo fa quindi state aumentando sempre di più sono contento perché mi dite che questi video vi aiutano o comunque anche solo semplicemente vi fanno piacere e io sono contento perché parlo con qualcuno che condivide la mia idea di quello che amo di più cani io amo cani e cabaret perché poi si mette in discussione tutto ultimamente su di me amo tutto di quello che faccio nella vita e amo condividere quello che amo con le persone che ho attorno quindi vi ringrazio vi saluto e ricordate lo slogan della pagina che dovrebbero ricordarsene sempre più persone il tuo sapere il suo benessere ciao